L'ultimo punto, spazi e attività extracurricolari. L'indirizzo a diversi laboratori nella palazzina informatica, qui alcune foto. Abbiamo in ogni laboratorio macchine con monitor per ogni studente, più la postazione per il docente con proiettore. E vediamo le attività extracurricolari, cioè tutte quelle attività che si fanno in modo complementare al normale orario scolastico e spesso proprio fuori il normale orario scolastico. L'obiettivo è, da una parte, motivare e valorizzare gli studenti in difficoltà rispetto al piano formativo delle materie precedenti e le cui capacità e competenze possono emergere in contesti magari meno formali di quelli della funzione del piano formativo delle discipline precedenti. Inoltre, l'altro obiettivo è quello di far emergere le eccellenze, cioè chi ha talenti e interessi particolari sulle varie sfaccettature informatica. Come attività abbiamo le Olimpiadi di informatica individuale a squadra. Le Olimpiadi sono una competizione locale e nazionale e fino anche internazionale che riguarda proprio delle gare riguardo il tema della risoluzione di problemi mediante algoritmi, mediante la programmazione. Vi è poi il noto evento Bergamo Scienza a cui gli studenti, tutti del Paleocapa e anche del nostro indirizzo, collaborano con attività dimostrative, divulgative rispetto ai temi dell'informatica. Abbiamo i progetti PON, progetti ministeriali, cui l'istituto è molto attivo nel presentare e vincere progetti. Uno dei progetti più interessanti vinti recentemente riguarda il progetto di una sera idroponica, quindi si andrà proprio a creare questa sera con questo metodo di coltivazione e ci sarà proprio la possibilità, i vari indirizzi, quindi anche informatica, di andare ad applicare le proprie competenze all'interno della gestione di questo tipo di tecnica di coltivazione, quindi con gli aspetti informatici. Inoltre a 360 gradi ci sono concorsi, gare, i cosiddetti hackathon, organizzati anche dall'azienda. Ad esempio l'azienda Sorrent è una dell'azienda che collabora molto con la scuola su questo tipo di attività. Poi abbiamo i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro, che riguarda tutte quelle attività previste da normativa che vanno a far sì di mettere lo studente in contatto con il mondo lavorativo e in generale favorire quelle competenze non strettamente disciplinari ma trasversali e favorire poi l'orientamento futuro. In quest'ottica agiamo con project work e stage in collaborazione con le aziende. Project work vuol dire dei progetti per cui le aziende lanciano dei progetti, dei temi e con l'ausilio, con la collaborazione dei docenti si portano avanti in orario scolastico-estrascolastico. Gli stage estivi presso le aziende, dove effettivamente i ragazzi vanno e compiono un vero e proprio tirocinio. Abbiamo poi il progetto School to School, che invece è un progetto dove lo stage, anziché essere una delle aziende informatiche che collabora con la scuola, lo studente ha la possibilità di andare in un istituto comprensivo, quindi tendenzialmente le scuole medie o elementari del territorio, a fare formazione informatica o aiutare nella gestione delle apparecchiature informatiche dell'istituto. Abbiamo poi altre attività sempre che favoriscono le competenze trasversali, come i percorsi di formazione all'imprenditorialità, in collaborazione con vari partner, tra cui la Camera di Commercio di Bergamo, e dei corsi, degli approfondimenti online, sempre in collaborazione con le aziende, in modalità e learning, uno di questi che abbiamo proprio attivo in questo periodo, con l'azienda Scoring e Sorrent, attraverso il progetto Sorrent for School. Vi abbiamo presentato quindi quelle che sono le motivazioni alla scelta dell'indirizzo informatica, una panoramica delle discipline che si vanno a approfondire, le attività e gli spazi dell'indirizzo. Non ci resta che augurarvi una buona scelta e vi invitiamo a consultare il sito dell'istituto nella sezione domande ricorrenti, anche se avete domande e curiosità non coperte da questa presentazione, potete farcele avere proprio mediante la sezione dedicata sul sito. Buona scelta e a presto!